Questa mattina ho sollecitato il Presidente del Consiglio a inizio lavori a calendarizzare il PDL 109. Qui in Regione Lombardia il Movimento 5 Stelle ha depositato il PDL 109, norme contro discriminazioni determinate da orientamento sessuale e dall'identità di genere. Abbiamo preso che il 29 aprile la Commissione Giustizia Senato ha calendarizzato il PDL ZAN, che è stato tenuto in ostaggio dalla Lega per oltre sei mesi. Qui in Regione Lombardia sta tenendo ancora in ostaggio questa proposta di legge e non vuole calendarizzarla. Per favore, calendarizzate il PDL 109. È inaccettabile che Regione Lombardia, terza Camera dello Stato, la regione più grossa d'Italia, non abbia una legge dedicata alla tutela di questi diritti, dei diritti delle persone LGBT. Grazie. Grazie Consiglio Everni. Grazie.